buonasera semplicemente volevo dirvi che non sono morto sono ancora vivo vegeto più o meno è natale festività volevo dirvi che se sono sparito per otto mesi non mi è successo nulla è semplicemente che mi sono un po spaventato perché gli ultimi video non erano i più ispirati diciamo erano un po per cavalcare l'onda e non erano non erano il massimo infatti non sono andati molto bene mi sono un po spaventato ho detto sì ma mi sa che se continuo così poi non andrà da nessuna parte e mi sono spaventato mi sono un po ritirato non ho trovato ispirazione per fare nulla e vi dico la verità non ho nessuna idea di cosa fare anche in questo momento però sono andato a buttare la spazzatura e devo dire che non lo so questo paesino dopo le 11 diventa avete presente le back rooms ecco esattamente così mi era sembrato bello cogliere l'occasione per fare un video comunque piccolo paesino qui c'è tutto albero di natale farmacia pulizia veramente perfetto questo posto se non fosse che non ci sono abitanti ma lasciamo stare quello che volevo dirvi è che non so se tornerò forse sì forse no però almeno tenterò tenterò di fare qualcosa adesso voglio superare questa mia paura tra virgolette di di fallire facendo il nulla e niente con questa fantastica ambientazione vi auguro un buon natale vi saluta il mio cameraman ma da sera buone feste buon natale vai bella grazie a tutti grazie a tutti